Buongiorno ragazzi, bentornati all'interno del nostro canale Nuova Passeggiata Estiva. Oggi andiamo a Possagno, una tranquilla cittadina del Trevigiano, ma soprattutto il paese dove è nato lo scultore Antonio Canova, proprio in questa casa, primo novembre 1757, e questo edificio ospita oggi un bellissimo museo, la collezione dei gessi del Canova, la gipsoteca. E che Canova ci ispiri allora? Torniamo oggi a parlare di classico. Il dizionario di latino ce l'ho, parliamo di liceo classico? No, non di liceo classico. Perché leggere i classici? Italo Calvino, parliamo di un classico della letteratura? No, non esattamente, oggi parleremo di classico da qui. Dal tempio di Possagno. Tempo fa abbiamo parlato di grotte, di contrasti, luce ed ombra. Le colonne scolpite dal sole. Là dietro una natura impenetrabile, il bosco. Dall'asfalto agli scalini si sale. Un tempio, questo, che è una chiesa, voluta dal Canova. Lo scultore è sepolto qui. Qualche passo e mi accorgo di viaggiare nel tempo. Salgo e mi immergo in un'altra dimensione. Il sole implacabile e l'ombra fresca. Spazi pieni e vuoti. Una foresta di colonne altissime che si proiettano in cielo. Mi sento osservato. La natura e gli spigoli di pietra, che tagliano l'aria come lame. Linee parallele e geometrie. La razionalità umana che scandisce il ritmo del tempo. O almeno ci prova. Sono certo, è il partenone. Sono un ateniese nel tempio dedicato alla dea. Atena, fedele a fianco di Achille. La saggezza che placa l'ira. A bocca aperta, tra ragione, terrena e splendore divino. In un angolo, venere, banchetta con Marte. La guerra, amore e morte. Poseidone attende di scatenare una tempesta. Nulla all'orizzonte. Il mare è lontano. Sono salvo. Apollo ora. Assorbo l'energia del sole. Dall'Olimpo torno con i piedi per terra. Il colonnato. Il bosco. Razionalità e natura misteriosa. Possagno. È il classico. Continuerà a pulsare qui. Silenzioso. Per sempre. Direi che per oggi è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi le ultime novità. A presto ragazzi. Grazie. Grazie.